C'è anche una Ferrari tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bari in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo delle Fiamme Gialle di Roma all'imprenditore di Altamura Mario Clemente, noto come Franco Clemar, dal nome di una delle sue aziende indagato per il reato in concorso esterno in associazione mafiosa e concorso in estorsione con il defunto boss Bartolo D'Ambrosio. Ed è proprio a quest'ultimo, ucciso il 6 settembre del 2010 ad Altamura, che secondo quanto accertato dalla procura di Bari, l'imprenditore prestava l'auto di lusso per ottenere in cambio protezione. I beni del valore complessivo di circa 35 milioni di euro comprendono complessi aziendali, strutture e attività di sei società riconducibili all'imprenditore, Italfibre SRL, Euroimmagine SRL, Clemar SRL, Clemar Tex SRL, Clemar Tex SRL e Clemar Style SRL. Tutte con sede ad Altamura e operanti nel settore della trasformazione del poliuretano espanso, della produzione di materiali in micro fibra e commercio all'ingrosso di arredi per uffici. 13 quote di altre 8 società e 3 veicoli, la Ferrari appunto e due Fiat 500. Ad estare i sospetti delle fiamme gialle, l'enorme sproporzione fra il reddito dichiarato e il valore degli immobili e mobili che erano nell'effettiva disponibilità dell'imprenditore. Clemente è stato coinvolto nell'operazione denominata Leonessa dei Carabinieri di Bari per aver messo la propria rete imprenditoriale, dunque le società di cui era lui stesso amministratore unico, a disposizione del sodalizio criminale che faceva capo a Bartolomeo D'Ambrosio. Quest'ultimo si avvaleva delle aziende dell'imprenditore per mettere in atto estorsioni nei confronti dei fornitori delle stesse società che facevano capo all'indagato e per consolidare così il controllo economico del territorio. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale degli esami di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.